Sono Sandro Gibellini che è uno dei maggiori chitarristi jazz italiani ha suonato nell'orchestra Rai e tra gli altri con Mina, Enrico Rava e Jerry Mulligan quindi Carlotta Martorana che è una cantante jazz e di Bossa Nova ha studiato con Rachel Gold e con Carla Marco Tulli e ha cantato nel gruppo gospel Joy Singles of Venice Buongiorno a tutti, per questa manifestazione di tutti i diversi noi avremmo tarato il nostro intervento musicale a Vinicio Jimoraes che è un poeta brasiliano che oltre ad essere scritto molti poemi e ha anche scritto alcune delle più famose e belle canzoni della Bossa Nova insieme al compositore Antonio Carlo Giudin questo nuovo movimento musicale che ha rinnovato la musica brasiliana e che a noi piace tantissimo e quindi inizieremo con il primo pezzo che è forse quello che ha dato proprio via a questo nuovo movimento di musica che si intitola Sceca di Saudaggi di Antonio Carlo Giubin e Vinicio Jimoraes Grazie mille 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 Chega di saudade A realtà è che Sem ela non c'è paz Non c'è bellezza Non c'è tristeza, melancolia E qui non sai di me Non sai di me Non sai Ma Sem la volta Sem la volta Que cosa linda Que cosa loca Pois amèni o peixinho Zaneda no mar O que o peixinho Que eu darei Na sua boca Tempo dois Meus braços Sobre-se Abraços são Dizem-me oi Que abraço esse apertado assim Colado assim Falado assim Abraço ser tanginho Ser carinho Ser tempinho Que abraçam a você Negócio de você Me peço linda Des supper Sobre-se Sua Ma se la volta e se la volta che cosa linda Ma se la volta e se la volta che cosa linda Ma se la volta e se la volta che cosa linda Ma 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 se la volta che cosa linda